Grazie Presidente. Cari colleghi, permettetemi di iniziare rimarcando come i recenti sviluppi politici a livello europeo in materia di transizione giusta siano stati incoraggianti. Dall'agenda strategica del Consiglio europeo, alle priorità elencate dal Presidente von der Leyen nelle sue Mission Letters ai commissari designati, i temi ricorrenti sono stati la competitività, la resilienza e una transizione giusta. Anche il tempismo di questo parere non poteva essere migliore. Con l'avvio dei lavori del Parlamento europeo e le audizioni dei commissari designati ci troviamo in un momento cruciale per poter influenzare il prossimo mandato europeo in modo significativo. Ciò nonostante siamo consapevoli dell'enorme sfida che abbiamo di fronte. L'ambiziosa transizione verso un'economia climaticamente neutra sta avendo però ripercussioni sempre più profonde per le regioni, i lavoratori, le industrie e la società in generale. La sfida più immediata è la trasformazione dei settori a elevata intensità energetica, il cui impatto si sta già facendo sentire nelle regioni di tutta Europa. Pensiamo ad esempio all'industria automobilistica. Quest'anno molte aziende europee del settore hanno annunciato tagli di decine di migliaia di posti di lavoro. Mese scorso Volkswagen, una delle aziende simbolo dell'industria automobilistica europea, ha annunciato la possibile chiusura di stabilimenti in Germania, un fatto senza precedenti nella sua storia. A pochi chilometri da qui anche l'Audi, con i suoi circa 3.000 dipendenti, minaccia di cessare l'attività. In quanto amministratori locali e regionali noi siamo più vicini ai cittadini e per questo siamo anche tra i primi a percepire l'impatto socio-economico di queste trasformazioni, sia per quanto riguarda le aziende che per i lavoratori. In quest'ottica è essenziale che questa transizione avvenga seguendo il principio della neutralità tecnologica. Non possiamo non prendere in considerazione come il tessuto produttivo cambi non soltanto tra Stato e Stato, ma come cambi anche da regione a regione e tutto questo ci impone di mantenere una certa flessibilità che consenta ad ogni territorio di promuovere un processo di decarbonizzazione secondo le modalità ritenute più adeguate e sostenibili. Reputo che questo sia l'approccio corretto da un punto di vista, sia tecnologico che politico, un approccio realmente democratico che può garantire coesione territoriale e salvaguardare il diritto dei cittadini a restare a vivere e lavorare nelle proprie regioni. Un elemento centrale che è emerso dai numerosi confronti che abbiamo avuto modo di organizzare con regioni e industrie è che il nostro impegno non può prescindere da finanziamenti più elevati se non vogliamo compromettere seriamente la nostra competitività economica rispetto ai concorrenti al di fuori dell'Unione Europea. Per questo motivo chiediamo che l'attuale Fondo per una Transizione Giusta sia esteso a un maggior numero di settori in transizione e che la transizione giusta diventi parte integrante di una politica di coesione riformata in grado di sostenere le industrie ad alta intensità di consumo energetico, di manodopere e di emissioni di gas serra. Infine la transizione deve essere graduale ed equilibrata, lavorando in sinergia con i livelli nazionali, regionali e locali e con il settore privato. Abbiamo bisogno di un approccio pragmatico che si muova dal basso verso l'alto. Abbiamo bisogno di un maggiore coinvolgimento degli enti locali e regionali. Dobbiamo ascoltare le nostre imprese e le loro capacità di transizione monitorando al contempo gli sviluppi del mercato. Invece di bloccare le attività produttive in fase di transizione, come la produzione di veicoli a combustione interna, dovremmo mettere in campo i giusti incentivi per sostenere ricerche e innovazione verso soluzioni alternative, come anche i biocarburanti, l'idrogeno e i carburanti sintetici, citati anche da Mario Draghi nel suo rapporto sulla competitività. In questo modo possiamo rendere più sostenibile la transizione, senza nuocere allo sviluppo dell'industria europea. Se vogliamo raggiungere gli obiettivi più ambiziosi, come quello dell'automotive, abbiamo bisogno di una strategia complessiva. È necessario istituire un fondo a sostegno dell'intera filiera dei veicoli elettrici prodotti in Europa, compresi i consumatori che li acquistano, e garantire l'autonomia europea nella produzione di batterie utilizzando materie prime critiche estratte e lavorate in Europa. È l'unico approccio che permette di preservare la centralità di questo settore. Vorrei concludere sottolineando la necessità di associare strettamente le politiche climatiche alla crescita e, come richiesto da molti in seno al Consiglio e al Parlamento, rivedere le norme più gravose del Green Deal e relative scadenze, concedendo alle nostre imprese e filiere produttive il tempo di adeguarsi e di rendere l'osservanza delle norme compatibili con gli altri obiettivi, quali la competitività economica, la sovranità tecnologica e la coesione territoriale. Ringrazio i tanti membri che hanno contribuito al nostro dibattito, sia in Commissione che in plenaria, con numerosi emendamenti che, sono certo, arricchiranno il testo e ci porteranno ad avere una posizione chiara delle Regioni sulla transizione giusta. In ultima ringrazio il mio esperto, il professor Stefano Cianciotta, il segretariato del gruppo ECR, come quello della Commissione Coter, per il supporto fornito in questi mesi. Grazie.